Questo slogan Realisbetter è l'inizio di qualche iniziativa che ci fa celebrare il fatto che la realtà è molto più bella di qualunque descrizione che un video o uno schermo possono dare. Ci siamo sentiti più forti insieme perché ci siamo ritrovati uniti e compatti come solo l'Italia sa fare nei momenti di difficoltà. È tempo di asciugarsi le lacrime, è tempo di tornare a sognare, è tempo di rialzarsi e vincere. Ci vuole di Lorenzo, il pallone per Annuncatelli, prova con il sinistro. È una super serata, è una super serata per Annuncatelli che segna la sua prima doppietta con la maglia della Nazionale. Sì, grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Che ci va a abbracciare! Che ci va a sognare! Che ci va a vincere! Che ci va a vincere! Grazie! Siamo campioni dell'Europa Italia! Campioni dell'Europa! Campioni dell'Europa! Grazie!